Antonio Delle Noce è stato confermato segretario generale della Filca Cisle di Bari. La sua elezione, insieme a quella dei segretari Luigi Sideri e Gianmarco Passiatore, è avvenuta nel corso del congresso della categoria. Tre presenti anche Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della Ust Cisle di Bari. Il congresso, intitolato Protagonisti del cambiamento, uomini, idee e progetti, ha preso il via con il ringraziamento al sindaco di Bari Antonio De Caro, assente ma che ha mandato un videomessaggio. Voglio portare il mio saluto personale agli amici della Filca che oggi sono impegnati per il congresso territoriale. I congressi sono sempre un momento importante per un'organizzazione sindacale perché ci si confronta, si disegnano le linee per il futuro, si sta insieme, si crea una comunità. Il nostro sindaco, ha detto delle noci, sta trasformando questa città con coraggio e competenza, ne sta scrivendo bellissime pagine di storia e nella sua veste di presidente del Lanci, per il suo equilibrio, lo ringrazio e anche per l'identità di vedute su tutta una serie di questioni legate ai nostri settori. Poi l'appassionata intensa relazione del nuovo segretario generale che ha posto al centro del dibattito anche il tema delle infortuni e delle morti sul lavoro e le conseguenze della pandemia sul lavoro nel settore delle costruzioni. Antonio delle noci, rieletto segretario Filca Cisle Bari, cosa si aspetta? Cosa mi aspetto? Noi in questo congresso, che è stato un congresso molto bello, con una partecipazione dei delegati molto partecipata e quindi sono contentissimo, abbiamo fatto un po' la traccia di quello che è stato il lavoro fatto in questi quattro anni e abbiamo dettato le linee di quello che sarà i prossimi quattro anni. Noi ovviamente è il momento e il momento è propizio, quindi è importante saper essere sul territorio, sempre vicino ai lavoratori, soprattutto nella gestione di tutte quelle risorse che arriveranno e quindi è importante che noi vigiliamo affinché i lavoratori siano garantiti nel rispetto del contratto nazionale del lavoro, ma soprattutto sulla sicurezza. La sicurezza per noi è un punto fondamentale, importantissimo e con questo caricarsi di lavoro noi riteniamo che dobbiamo essere ancora più vigili rispetto a quanto lo siamo stati fino a oggi. Nel suo intervento lei ha detto che non si può disegnare futuro del Paese senza un confronto con le organizzazioni sindacali. È la premessa di una nuova stagione contrattuale che si apre? Assolutamente sì, è importantissimo che i sindacati siano seduti al tavolo con il governo e tra l'altro lo dimostra quest'ultima situazione che si è venuta a creare con la proclamazione dello sciopero da parte di CGL e UIL e noi volutamente non abbiamo aderito a questo sciopero perché riteniamo che il governo qualche sforzo l'abbia fatto. Certo c'è ancora tanto da fare, però è importante stare seduti ai tavoli, di concertare perché solo con la concertazione possiamo venire fuori da situazioni che oggi ci possono permettere, visto le tante risorse derivanti dal PNRR e quindi noi crediamo assolutamente nella concertazione, quindi i tavoli assolutamente vanno tenuti in piedi e si deve dialogare per portare risultati per i lavoratori e per tutti quanti.